Eccolo qui David Johnson, ascoltiamolo! Ecco qui ci mostra la donna del DVD Eh si, splendida! Ovviamente realizzata dai migliori artisti, produttori, insomma dai migliori... Andrea, eh? Dai migliori giricolazioni, grafici Grafici a terminare la parola Oh, guarda attenzione parla di Kimberly Ma... Oh mio Dio! Ma questo è Martin Johnson! Attenzione! Direttamente da NRWS Incredibile! Terzo classificato... No, meglio... Insomma... Tra i primi 3 milioni insomma ... Il fratellino di David Johnson Provo uguale Non so se mi aveva niente Però guarda il braccio, eh? Eh si, Freddie Mercury Il Freddie Mercury Te la dà proprio... Io qualcosa di Raffrello ho fatto parlo Eh già! E guarda come se la tira! Ho capito che era la tua prima apparizione però... Stantene Carmelo Stai Carmelo Dai! Ma c'è anche David Johnson Cioè, stava parlando di Kimberly e tu lo vai a interrompere Ma dai! E qui David Johnson fa un uomo così, no? Eh si Eh si No, non so scusate Ma sicuramente voglio essere vicino a te In una bambina come questo Dopo tutto ho un piccolo figlio Un corto momento Eh beh... La sconfitta No, no A parte la sconfitta Ma anche Kimberly ha perso il posto di lavoro, no? Ah si Nooo 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 Martin Johnson Martin Johnson Nooo e guardalo come se la tira madonna no parti johnson che dunque lascia il segno qui a break down si fa andrea no andrea qui ci viene mostrato il voto di johnson proprio nella cattiveria mamma mia ragazzi parti johnson lascia il segno controllo come se la tira controllo come se la tira Grazie a tutti. I breakdowman And Danny Brown will become the most dumb and simplest one WWE ever had I have known for my bad name in these last years Despite all I bring that respect I deserve And I am always good to do it because I've always been myself Without being a big muscle man with soul to soul Because we've got skills to do Like our time is running out I'm gonna change you like a remix And I'll raise you like a penis We're in all vintage misery Now I'll take it Mamma mia ragazzi, Air Nemor è prontissimo Eh sì L'Hout School si è portato a casa un altro titolo Ora Air Nemor dovrà portarsi a casa anche la vittoria contro Stipendio Esatto Però questa è una sfida che è un po' fuori dalle carte di Air Nemor Anche non ciò per finora Sì, anche il NWS, insomma Non è che gli abbia affrontato questa Lui è il colosso, no? L'eliminatore Parole molto forti nel suo discorso iniziale Certo, ora ha una vittoria contro Stipendio C'è veramente un Rambroso avanti E beh, si potrebbe pronosticare un possibile vincitore Per la Rumble Eh sì Ma Rumble va molto incerta quest'anno Attenzione 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 Finalmente torna a combattere Stipendio A cambiare l'ingresso Non ci sono più pochi d'antibicio Eh no Non sono stati più reperibili Attenzione Lo Stipendio In versione nuova Nuova versione Eh sì, finalmente Torna dalla parte dei buoni Stipendio E si schiera con Gio Pranzo Eh già Gio Pranzo è un mezzo fori legge In questi ultimi mesi Eh sì Ma bello questo match Sicuramente ci racconterà molto Anche sul futuro di entrambe le superstar Stipendio Torna con Piesto In version 1 Eh già Ma in senso il Stipendio con quelli corti Novità L'abbiamo visto solo incappucciato Attenzione Anche la tinta Anche la tinta è mezza Bordeaux Eh sì Novità da andiamo al match Perché Novità per il Stipendio quindi Andrea subito Stipendio d'assalto Un personaggio di Jair Eh sì Attenzione Prende subito in Quattro dei bruchi Ma bravo lui ha Oh 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 Eh ma lì in esperienza quella di Ernemor L'astuzia di Stipendio Attenzione Oh oh Quattro dei tramm Lo rialza E poi attenzione No no Il Nemor è venuta giù Eh ma c'è un'oppolenza fisica La mattina del Nemor Guarda che fisico Amma mia ragazze E poi Erce Cipendio è tantissimo Oh oh Brunta botta Ma bravo Stipendio Ma stipendio è Guarda il 3 La difenza fisica è il nome Ma abbiamo visto Stipendio Si si Stipendio è uno dei più grandi Eh si Con Bernie bordieri Insomma sono due esempi Eh si Anche a poco avessi mi sembra Eh già la massa gigantissima Oh Andrea Ernemor Qui Ora Dio mio E' tremendamente forte Non è forte Tremendamente Eh si Inizione ora Il match wince per due E' vinto chiaramente da Nemor Che Mamma mia il match è molto bene Diciamo molto competitivo Si E poi E poi Da un pranzo Quelli che diceva Mamma mia Eh ho capito Questo ci avevo No vabbè Più che altro Però L'ha scelto bene Perchè comunque I due non si sono mai troppo apprezzati De poterli stare Sportivamente parlando No? No però C'è sempre stato Ernemor Belli Oh Madonna Ernemor Andrea Qua Stipendio Se non me si sta pentendo Eh si Quale si ha spostato Ma bravo qui Stipendio Rialmente E poi troppo Takedown Stipendio non è ancora Al 100% Si Oh oh Andrea 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 Uh Questa Questa ha già manzato Questa manovra eh Mamma mia Assurdo Si sappiamo che Stipendio Utilizza queste manovra E poi alla fine arriva con American Destroyer Dei Sassar no? Si E vince il match Comunque è una signora manovra Si Oh 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 Bex suplex Guarda c'è un pranzo E' nervosissimo Eh si Ma il pranzo invece diceva bene Continua così Ernemor Il mio ultimo Alla fine Alla fine Il mio amato Eh si Non mi ricordo Alla fine sembra che comunque c'è un pranzo che ha tutto da perdere Qui Al fine c'è Beh Sappiamo che vincere oggi sarebbe una beffa Alla usare no? Per ma Stipendio Bravo qui Non tenta però eh Hai visto? Non fai spin Oh 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 Bulldog! Mamma mia Ti ricordi cosa successe a Revenge? Eh si Tom Stone al volo E qua c'è Ernemor al volo di proseguire una testata Ma insomma Qualunque cosa Il match è molto interessante eh Si veramente Molto carino Attenzione Bex suplex Con rotazione Però Vantaggio fisico veramente Impressionante da parte di Ernemor Ancora Ernemor Mamma mia Ragazzi Che potenza Lo alzano troppo facilità E questa è la periodura di Stipendio Si Si deve trovare Revenge di Funga Eh si Guarda è anche molto tecnico il Nemora quello che è vero eh Beh Certamente non è solo potenza Oh D'accordo eh Però casca come un salame D'altronde è grosso ma il cervello eh Eh si Oh Ahia Ancora Apple Spendolo oltre sulla dimensiva Che sta sbagliando però eh Eh si Purtroppo deve rischiare Attenzione ora Resweep Ancora 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 all'angolo Bravo Stipendio Bravo Stipendio qui Cagione Drano Scrooze Drano Scrooze Che ammettono il drago Poi E' uno smash Spoda Stipendio questa Attenzione Switch Catch the ring Stipendio E' Neymar Oh Tiozzo Mamma mia Trano Ciopp lo ha buttato giù Eh si Oh Dio mio Ha sbracciato Stipendio E' sbagli Sprepitoso qua Un close line neckbreaker diciamo Eh si Guarda attenzione a Neymar di nuovo Qui va completamente a vuoto Eh però Si però riprende l'offensiva Bravo Difendersi Bravo Stipendio E' un break Insalto Ottimo Ottimo Stipendio Vai Portaci al triunfo Oh Tiozzo Troppo leggero Ernemar è troppo forte Oh Guarda Stipendio sta riseguendo le stesse manovre Però Ernemar non sembra così intelligente Esatto Oh attenzione Questa è una delle kick di Stipendio Tembro ciocchi E' gomitata Eh si E fa male eh Non è che fa bene Bravo qui Ferma la carica Ernemar lo gira Attenzione Momenti fatali del match E' riuscita Vita da Ernemar No Bravo Stipendio Calcione Attenzione Stipendio Stai ricolpito No ma viene No John si sta preoccupando Andrea Eh si John è davvero preoccupato Non se lo aspettava così eh Eh si Viene il suo campione proprio in Il tavolo Il tavolo dei nostri colleghi no eh Già il nostro Sto salvando però Guarda attenzione Stai ricolpito di Stipendio Bravo qui Bravo Davulenza visibile Senti che schicchere eh Si sentono proprio Oh Vengevole qui Stipendio Bravo Stassimo Per fortuna non è caduto sul tavolo eh Eh si Oh E qui finisce sulle gambe del gigante Siamo a 5 Attenzione Entra Oh no Stipendio molto bravo qua Eh si Ma attenzione Lo prende E' bravo Ernemar di Oh via No Contro un treno E' andato contro un treno Si riprova Andrea Oh Andrea Andrea è finita Sei qua allo schiena E' finita Eh si anche se non Ah vai il clutch forse Interviene John Interviene John Che distrae Direttamente l'arbero Qui matto Si starà piano ma Stipendio non so se Avessi ceduto eh No no invece Non l'hai ceduto Non l'hai ceduto Però io l'ho dato tempo molto Per cercare di riparci Andrea Andrea TKIO TKIO E' finita Andrea Si Non sai cosa significa questa E' finita No attenzione c'è John Uno Due E tre No attenzione No attenzione Ma l'esistenza di Stipendio Tipo John qua Non sta effettuando un po' gli interventi eh Oggi è Ernemar 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 Non ci credo No 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 Uno No No Incredibile Rennu guarda Stipendio dice no Stipendio Troppo Down Il quinto Guarda mi dispiace Salve di più Attenzione Stipendio incredibile La resistenza Uno dei più grandi incassatori di tutti i tempi Stipendio Assolutamente Oh attenzione Ah ci prova Uno Due Niente da fare c'è John E comunque c'era liberato Stipendio Stipendio comunque Guarda nonostante gli interventi di John Non arriva a far contare play eh Attenzione John che fa John qua Ha visto? Rimane nel ring Eh si Ragazzi devo pensare insieme